Mentre i tifosi a Maranto si cullavano il bell'Arezzo visto con la Fiorentina nella notte, informa Rezzo in un articolo a firma del direttore Paolo Casalini, lancia la bomba. La Cava starebbe valutando la cessione della società a un gruppo di imprenditori composto tra gli altri da Simone Corradi, nomi che già si erano accostati all'Arezzo fin da quando c'era Maro Ferretti. Una notizia che ci risulta essere confermata tanto che nelle prossime giornate potrebbe anche esserci un incontro tra le parti per capire se possano esserci i margini economici per perfezionare l'operazione. Da parte di la Cava, oltre all'entusiasmo per quello che si è creato in questi mesi, dal salvataggio della società alle strutture, alla prima squadra e al settore giovanile, trapela anche una certa delusione per la mancanza del main sponsor e di quegli aiuti degli imprenditori aretini che non sono arrivati come avrebbe voluto. Gli imprenditori interessati all'Arezzo sono stati a un passo ad arrilevare la reggiana operazione sfumata all'ultimo. Sembrava un'estate serena, l'unica speranza è di non ritrovarci in un'altra interminabile e deleteria telenovela.